Padova blindata per l'arrivo del ministro degli esteri Antonio Tajani, giunto oggi per partecipare a un incontro all'Università di Padova. Le misure di sicurezza sono state imponenti, presenti, numerose forze dell'ordine dispiegate nei punti strategici della città. Molte aree sono state transennate già nelle prime ore della mattinata. Il ministro ha partecipato all'interno del BOL incontro senza pace, le guerre interrogano l'Italia. Tajani ha discusso le sfide che l'Italia deve affrontare di fronte all'instabilità in diverse aree del mondo, ponendo l'accento sull'importanza della diplomazia e della cooperazione internazionale per cercare soluzioni durature ai conflitti in corso. L'evento, molto atteso, ha visto anche una grande partecipazione. Poco distante dall'Ateneo, in Piazza Cavour, si è svolta la protesta di un centinaio di studenti, ma senza incidenti.